L'Inter è uscita dalla Champions, è un dato di fatto, lo sappiamo, lo abbiamo visto, ieri sera sul secondo canale tra l'altro ho parlato del post partita di Liverpool-Inter, una bella vittoria ad Anfield che però costa l'eliminazione. Tra l'altro sul secondo canale troverete anche la prima puntata della carriera allenatore, se avete sentito bene, della carriera allenatore che stiamo giocando in live su Twitch e sul secondo canale appunto vado a riportare gli episodi riassunti, quindi se volete farvi un bel tuffo nel passato, link del canale è qui sotto in descrizione, lo trovate anche nella mia home, fateci un salto perché veramente parliamo un po' delle altre squadre e facciamo cose particolari appunto come la carriera allenatore. E proprio dall'Inter volevo partire per affrontare un discorso relativo alla Juventus perché quello che è accaduto all'Inter ieri e cioè l'eliminazione dalla Champions è una cosa che frulla e frulla e frulla nella mia testa e che non si vuole fermare perché siamo a esattamente sette giorni dalla partita di ritorno di Champions League, degli ottavi di finale con il Villareal dove giocheremo in casa. Sappiamo bene che gli ultimi anni non sono andati benissimo, quindi scarichiamo OneFootball per cercare di capire se recupereremo qualcuno perché già sabato giochiamo con la Sampdoria, una partita che anche quella è molto delicata, non saprei cosa scegliere in realtà la Champions, rimane lì. Però capite bene che anche in questo momento il campionato diventa importante per una futura Champions, quindi no, so cosa scelgo ma bisogna comunque recuperare giocatori e bisogna capire in che condizioni arriveremo alla partita. Quindi scaricate OneFootball in tutti i modi possibili e immaginabili. Tra l'altro prima di iniziare il discorso vi chiedo un like di supporto, visto che è da un po' che non iniziavo il video in questo modo, grazie mille per averlo lasciato, o mannaggia te che non l'hai lasciato, parliamo della Juventus. Parliamo della Juventus perché ieri sera mentre guardavo la partita continuavo a pensare, però, però, perché io un po' di paura ce l'ho, ve lo devo dire, ce l'ho, proprio nel profondo del mio cuore una grande percentuale di paura ce l'ho. Però è anche vero che ci credo, ci credo e sono consapevole, questo lo dico nella più totale tranquillità, che la Juventus, questa Juventus, nonostante gli infortuni, nonostante il momento, nonostante il gioco, è assolutamente in grado di eliminare il Villareale ed è assolutamente in grado di approdare ai quarti di finale di UEFA Champions League. Ne sono molto consapevole, rimane la paura, rimane il timore, perché? Perché purtroppo siamo stati scottati, da qualche anno a questa parte siamo rimasti scottati. E l'Inter ieri sera, ieri sera, ieri sera esce effettivamente a testa alta. Ora, so che sui social no, c'è questo discorso del linearizzare lo sfottò, quanti ne abbiamo subiti noi e quanti ne subiremo noi, quanti ne hanno subiti loro e quanti ne subiranno loro. Sapete bene che io non sono tipo da sfottò, nel senso guardo abbastanza più al mio orticello e inizio a preparare le barricate perché tra sette giorni, nonostante le eliminazioni dell'Inter, dovessimo uscire noi, arriverebbero e arriveranno nel caso. Però io sono anche uno che non tifa le italiane in Europa, cioè io non vi dirò mai che tifo per l'Inter, cioè guardate, è impossibile, non uscirà mai dalla mia bocca. Come non tiferò mai per il Milan, non tiferò mai per il Napoli, non tiferò mai per la Roma, non tiferò mai per l'Atalanta, non tiferò mai per un'altra squadra. Poi, fatto che io abbia piacere che possano andare avanti, questo è un altro discorso e lo faccio anche con un secondo fine, lo dico proprio tranquillamente perché immaginare l'Inter che andava avanti in questo momento mi dava quella possibilità di immaginarmi una Juve e un Inter che andavano avanti insieme in Champions e quindi usavano energie ed è la storia più vecchia del mondo. Lo sappiamo che chi ha una sola competizione si concentra solo su quella, ha più probabilità di portare avanti quella specifica, di guadagnare punti, di non perderli e di fare prestazioni di livello. Perché? Perché c'ha solo quello a cui pensare, invece se hai più cose a cui pensare devi anche un attimino dividerti. Però io sto pensando agli ultimi due anni di Champions League della Juventus, cioè Porto e Lione, penso anche a quello dell'Ajax, però quell'Ajax lì ragazzi, e butta fuori il Real Madrid. È un passo da buttare fuori il Tottenham, è un passo dalla finale di Champions League. Giocatori che si sono rivelati dei veri e propri crack, uno lo conosciamo direi abbastanza bene e ci ha fatto capire quanto è forte che Mattheis De Ligt, la sola presenza di De Ligt migliora sensibilmente il reparto rifensivo della Juventus come la sola presenza di Vlaovic migliora sensibilmente il reparto rifensivo della Juventus a prescindere poi di come vengono utilizzati perché sono valori assoluti, sono due giocatori sopra la media. Però Porto e Lione, è vero che Lione ha buttato fuori il sette di Guardiola, però permettetemi di dirlo, sono due squadrette. E credo che questo Villareal sia superiore a Porto e Lione, inferiore all'Ajax, ma assolutamente alla portata della Juve. Perché nonostante il fatto che sia una squadra che ha vinto l'anno scorso l'Europa League, nonostante il fatto che sia una squadra allenata da Emery che ha vinto numerose Europa League e che è l'uomo dell'Europa League, con tutto rispetto, però noi siamo la Juventus, loro sono il Villareal, noi dobbiamo assolutamente uscire, loro già essere arrivati a questo punto, magari è un orgoglio e pensare di poter eliminare la Juventus, quindi essere la squadra che non ha niente da perdere ma solo guadagnare, gli mette una posizione di vantaggio psicologico. Noi invece dobbiamo iniziare a gestire la pressione, dobbiamo iniziare a valutare, di capire come riusciremo ad affrontare queste partite. Perché io non me la perdonerei una terza uscita consecutiva agli ottavi di Champions contro squadre sulla carta estremamente abbordabili. Perché l'Inter che esce con Liverpool, è una situazione win-to-win, se esci con Liverpool e fai anche una bella prestazione e vinci anche a Danfield, dici, vabbè, sono uscito con una pilola, mando giù, meno amara, se passi con Liverpool, bravissimo. Che è un po' quello che negli anni è toccato a noi, perché la penultima Champions di Allegri, quindi usciamo a Madrid con Real dove era avanti da zero, che cosa puoi dire lì? Magari possiamo parlare della partita d'andata, ma la partita di ritorno è stata mostruosa, clamorosa, e noi dobbiamo iniziare ad abituarci che queste partite sono 180 minuti, sono effettivamente 180 minuti. Quindi quando ragioni della partita, probabilmente devi iniziare a prendere in considerazione tutto. Però se è uscito, gli hai detto, eh, c'eravamo vicini. È diversa la sensazione con cui esce. Poi, io non voglio uscire punto, quindi mettiamoci la testa che io voglio andare avanti in Champions, non voglio uscire punto, però purtroppo l'eventualità dell'uscita c'è, cioè è inutile che ci prendiamo in giro, l'eventualità dell'uscita c'è, è presente. Può essere, può succedere, può accadere. E allora chiedo una cosa sola alla Juventus, perché io sono dell'idea che ce la possiamo giocare alla grande, che possiamo andare avanti, siamo in casa nostra, è vero che gli ultimi anni siamo sempre stati eliminati in casa, ma sono anche dell'idea che questa possa essere una spinta, un valore aggiunto per questa Juve, soprattutto dopo anni in cui il Covid aveva anche un po' limitato questi avvenimenti importanti, e quindi che ce la possiamo fare. Però dall'altra parte c'è l'eventualità che si possa uscire, o l'eventualità che si possa fare una partita come quella del Liverpool, non parlo di spettacolo, ma in cui tiri, tiri e tiri, prendi tre palli e uno te la salva sulla linea, perché in Champions queste cose succedono e a noi succedono ancora più frequentemente. E allora vedendo la partita ieri sera mi è già salita l'ansia e chiedo una cosa sola alla Juventus, che non è il bel gioco, che no, è la grinta, è ricordarsi che si scende in campo con la maglia della Juventus, è ricordarsi che si scende in campo per giocare una partita di Champions, che non sappiamo col discorso Superlega se la Champions sarà ancora dalla Juventus l'anno prossimo, a prescindere dal quarto posto, perché Gnelli te l'ha detto, la Superlega è ancora viva, attenzione, quindi non sai se questa è l'ultima partita che andrai a giocare in Champions, potrebbe pure essere, potrebbe anche essere, oltre al fatto che se non arrivi nelle prime quattro almeno ti spazi la bocca per scendere dalla Superlega e ti vai a giocare l'Europa League. Quindi l'idea che scendano in campo con la voglia e la consapevolezza di dimostrare che sono la Juventus e sono in Champions League e devono entrare nelle prime otto d'Europa, se i giocatori non riescono ad avvertire questo orgoglio, dove sulla carta sono pure i favoriti, allora a me girano i maroni. E' l'unico motivo per cui io veramente mi incazzo, perché un conto è uscire, però vendere cara la pelle e dimostrare di essere squadra, di saper soffrire, di saper far male agli avversari, di essere gruppo, di essere vivi, un conto è uscire come abbiamo fatto negli ultimi due anni, in cui veramente ci tremavano le gambe, ed è la grande critica che ho fatto all'andata di questa partita, no? Ve lo ricordate la Villareal? E mi chiedo, mi domando, ancora mi torno a chiedere, come sia possibile che su questi palcoscenici e con questa adrenalina e con questa atmosfera a tanti giocatori a un certo punto della partita vadano a tremare le gambe? Ci caghiamo adosso, avevo detto all'epoca, c'era da cambiarsi il pannolone, perché in Europa ci caghiamo adosso. E allora è ora di capire che in Europa è una cosa, in Italia è un'altra. E già l'altro giorno abbiamo fatto fatica con lo Spencer, abbiamo sottolineato quello che volete, però è anche vero che nella tua testa puoi pensare sto giocando mille partite di fila, questa in casa con lo Spezia, che sì, lo posso battere anche non usando tutte le mie energie, posso anche un po' più dosarmi, posso anche risparmiarmi, rimane lo Spezia con tutto il rispetto dello Spezia. Ma quando sei in Champions, questa cosa la devi prendere al tuo cervello, la devi buttare via. Perché non esiste la possibilità di errore, non esiste il margine di errore, non esiste non giocare al 200% delle tue possibilità. Quindi l'unica cosa che chiedo nel caso è di mettere le palle sul campo da calcio. Perché le palle sul campo da calcio in Champions League ci vogliono, sono essenziali, non si possono lasciare a casa. Poi, è vero che prima della Champions c'è un'altra partita, e lo so, però manca una settimana la Champions, ragazzi. Manca una settimana la Champions. E lo dico proprio sinceramente, lo dico proprio fuori dei denti, la logica è pensare partita dopo partita e vedere cosa succede. Io in questo momento non riesco, non riesco a non pensare già al derby d'Italia, non riesco a non pensare che ho due partite che sono abbordabili in Serie A sulla carta, in mezzo ho appunto la Champions League e poi ho l'Inter. Io queste quattro partite le vedo tutte insieme, e in mezzo c'è una qualificazione mondiale, una pausa nazionale, quindi non è dietro l'angolo, manca praticamente un mese, però io sono già proiettato a quel mese lì, tra un mese, perché in questo momento sono blocchi di partite che vanno lette, vanno anche preparate, perché non è che tu puoi far giocare con la Sampdoria a ritmi altissimi e duemila all'ora tutti i giocatori che vorrai far giocare poi con il Villareal, perché poi ti freghi, tu arrivi in Europa, non ne hai più, muori. Non funziona così, devi anche ragionare in prospettiva, e allo stesso tempo non devi fare calcoli sulla Serie A mentre sei in Champions. Io ieri sera ho detto anche nel video post partita, non capisco perché Zaghi non l'abbia messo dentro Dzeko, Zaghi a fine partita dice l'ho preservato per il Torino, secondo me questa cosa non può esistere, devi giocarti il tutto per tutto, in Europa con le unghie e con i denti, non devi mica aver paura di dire, però sai magari ne prendo... No, 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 se arriviamo nella condizione in cui stiamo perdendo, ok, o la stiamo pareggiando e abbiamo paura di prendere il gol del perderla, no, no, mettiamo 4-5 attaccanti e poi cerchiamo di fare gol, oddio, non so quali 4-5 attaccanti, perché non li abbiamo semplicemente, però in Champions certi calcoli e pensare poi alla Serie A dopo, ma non esiste, ma non esiste. Quindi io non me la sento assolutamente di dire che la Juventus potrebbe... No, 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 la Juventus deve andare avanti in Champions. Cioè non esiste questa cosa, abbiamo già... Pensare alle figure barbine degli ultimi due anni, quelle sono mosche bianche, non sono un nuovo standard, sono due cose diverse. Se noi adesso come standard abbiamo, eh però siamo usciti con il Lione e il Porto, deve essere una cosa che c'era fastidio, deve essere una cicatrice che fa male e quando cambia il tempo e che ci deve ricordare che in realtà tu quella partita lì l'hai persa, hai fatto una figura di puntini puntini e quindi quest'anno la devi più fare. Non pensare che vabbè tanto anche l'anno scorso sono uscito, quindi cosa cambia anche quest'anno? No, no. Quello è il passato ed è un passato terrificante che va condannato. Poi c'è da valutare anche gli aspetti psicologici del Champions League perché ora vedremo come la prenderà l'Inter. Io non so come la prenderà l'Inter questa eliminazione, se sarà una carica perché hai vinto a Danfield o se sarà un distruggere psicologicamente la squadra come un po' era accaduto l'anno scorso alla Juve di Pirlo. Questo secondo me, se non mi affogo, dipende tanto dagli allenatori, da come l'allenatore riuscirà a gestire questa cosa e secondo me l'anno scorso Pirlo ha fatto valere tutta la sua inesperienza in quel campo proprio in quell'occasione e infatti inizia poi il periodo così così della Juve di Pirlo dove perdiamo tante partite di fila anche partite clamorose come la sconfitta col Benevento in casa o partite in cui veramente non si avverteva più il polso della squadra e si vedeva che era cambiata la Juventus di Pirlo da come aveva iniziato il campionato a come l'aveva finito. Era proprio tutta un'altra squadra che era avanti per inerzia e che non era più gruppo, che era sfaldata e che si appoggiava sempre solo a Cristiano Ronaldo e basta perché non c'era nient'altro a cui aggrapparsi che era diversa dalla Juventus che aveva messo a giupirlo. Quindi dipende anche molto come gli allenatori mettono giù le squadre e soprattutto come poi sono in grado di gestire determinati momenti difficili della stagione perché il farsi scivolare via la squadra di dosso perdere la presa della squadra poi è molto facile e anche qui chiamo Massimiliano Allegri e dico dato che allenatore di esperienza allenatore vincente che di queste stagioni in affrontato un milione di queste situazioni in affrontato un milione che si esca che si vada avanti qui voglio vedere la mano di Allegri nel riuscire a compattare il gruppo a tenerlo calmo e fare in modo che non si perda per strada quello che in questi mesi in queste settimane siamo riusciti a rimettere in piedi e cioè una classifica semidecente perché non venitemi a dire che adesso siamo soddisfatti perché il quarto posto per quanto mi riguarda è il minimo indispensabile sindacabile e adesso si lotta per guadagnare qualche posizione in più fatemi sapere un po' di cosa ne pensate di questo ragionamento se siete d'accordo con quello che vi ho detto se anche voi state già pensando alla Champions League o se siete focalizzati sulla Sampdoria in tal caso vi faccio complimenti perché è così che si dovrebbe fare io personalmente non ne sono in grado di questo ragionamento non ne sono in grado di questo ragionamento di questo ragionamento